In sintesi, oggi è chiaro e evidente a tutti che i lavoratori stanno protestando, sono i lavoratori della centrale termoelettrica Biomasse Italia a Strongoli. Stanno protestando e noi abbiamo inteso proclamare uno sciopero per contrastare un atteggiamento miope e sordo dell'azienda rispetto a alcune nostre rivendicazioni che da tempo stiamo formulando all'azienda. Purtroppo in mancanza di risposte siamo stati costretti, non tutto malgrado, ad attivare mobilità e quindi un percorso di conflitto sindacale affinché l'azienda scenda a più miti consigli. Franco Timpano della Cisla, rivendicazioni quali sono? Rivendicazioni soprattutto la questione della tenuta degli organici in riferimento al contratto nazionale di lavoro, con specifico riferimento all'esercizio del turno. C'è un organico che a regime dovrebbe essere di 18 persone ma attualmente è di 16 e questo praticamente riflette negativamente i suoi effetti soprattutto sulla sicurezza dei lavoratori ma anche in una prospettiva futura di tenuta dell'organico di riferimento. Ecco, è una delle nostre preoccupazioni anche il fatto della tenuta occupazionale insieme anche ad una questione di relazioni sindacali improntate da parte dell'azienda per quanto ci riguarda ad un certo autoritarismo fuori luogo che sicuramente condanniamo e che ci ha portato a fare un'iniziativa che assolutamente non volevamo fare ma siamo stati costretti a farlo. Ci sono i dipendenti di questo stabilimento ma anche degli altri? Sì, ci sono i lavoratori anche del sito di Crotone a sostegno dell'avvertenza dei colleghi di Strongoli perché alla fine l'avvertenza riguarda tutti, perché il problema legato al contratto collettivo nazionale degli elettrici è un problema che riguarda le due società. L'azienda ha dichiarato la sua volontà di uscire da Confindustria con la conseguente, evidente, banale uscita e conseguenziale l'uscita dal contratto degli elettrici. Questo non lo dobbiamo permettere, lo dobbiamo assolutamente tutelare e riguarda tutti i lavoratori che oggi lavorano per Biomasse, che sia Italia che sia Crotone per Biomasse Italia. Questo lo dobbiamo assolutamente tutelare. Concludendo, a chi vi rivolgete oggi? Noi principalmente ci rivolgiamo alla direzione aziendale e al management a tutti i livelli, quello locale e quello nazionale. Noi siamo sempre e comunque disponibili, l'abbiamo dimostrato in tutti i luoghi e in tutti i modi, al confronto. Fermo restando che i nostri punti di mediazione, l'azienda li conosce benissimo, deve solo immaginare di avvalorarli e quindi accoglierli, se no diversamente sarà comunque un percorso di conflitto sindacale che vedrà altre azioni nei prossimi mesi.